Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi parliamo di una donna ebrea, Anna von Deich, che fu una traditrice che consegnò alle SS oltre 100 persone nascoste, fra cui, ma scopriremo dopo come e perché, si sospetta anche la famiglia di Anna Frank. La storia parte con qualche cenno biografico e poi si sviluppa nei concitati giorni dell'occupazione nazista dei Paesi Bassi, fino al processo del dopoguerra e alla condanna della donna. Ma partiamo da principio. Anna Hans von Deich nacque ad Amsterdam nel 1905, figlia di due genitori di religione ebraica. La storia della sua vita si intreccia in modo drammatico con l'occupazione tedesca dei Paesi Bassi e con le deportazioni nei campi di concentramento dei cittadini ebrei, perpetrate dai nazisti fra il 1942 e il 1945 in tutta l'Europa occupata. La sua vicenda umana termina il 14 gennaio del 1948, quando viene fucilata dopo essere stata riconosciuta colpevole di crimini contro l'umanità. La storia personale della von Deich è decisamente particolare e fa comprendere quante sfaccettature possa aver avuto in tutta Europa la persecuzione degli ebrei e degli omosessuali. Hans von Deich era figlia di genitori ebrei, Aaron von Deich e Katje Bin. Nel 1927 sposò un tale di nome Brankerido, dal quale si separò nel 1935. Dopo la fine del matrimonio iniziò una relazione omosessuale con una donna di nome Niepstoddel e aprì un negozio di modisteria chiamato Maison Evany ad Amsterdam. Gli affari andavano bene, ma il negozio venne chiuso dopo l'occupazione tedesca nel 1941 come parte del sequestro di attività e proprietà condotte da olandesi di fede ebraica. Nella compagna di Anna Miepstoddel non sappiamo molto altro, se non che nel momento dell'occupazione fuggì in Svizzera e quindi scompare dal nostro racconto. La von Deich invece rimase nei Paesi Bassi e nella domenica di Pasqua del 1943 venne arrestata dal detective della Sischer Heidens, Peter Schaap, perdonate la mia pronuncia a brevio Sischer Heidens, in SD, il servizio di sicurezza e intelligence delle SS, nell'ufficio degli affari ebraici della polizia di Amsterdam. Alla donna fu fatta un'offerta, aver salva la vita in cambio della collaborazione con la SD. Anna von Deich accettò la proposta e iniziò a fornire informazioni su dove trovare gli ebrei nascosti. Il modo in cui operava era semplice. La von Deich, ebrea e omosessuale, si fingeva membro della Resistenza e si proponeva di aiutare le famiglie ebree a trovare un nascondiglio sicuro dai rastrellamenti tedeschi. In realtà, una volta capita la posizione dei correligionari, trasmetteva le loro posizioni alla SD. In questo modo riuscì a far catturare e si stima almeno 145 persone, tra cui suo fratello e diversi membri della sua famiglia. Tra coloro che furono arrestati grazie alle segnalazioni della von Deich, ben 85 morirono nei campi di concentramento. Ma una stima più recente indica in almeno 700 il numero di morti totali legate al lavoro della donna, se così possiamo definirlo. Il più recente libro uscito sull'argomento, The Backyard of the Secret Annex, scritto dal figlio settantenne di Gerhard Kramer, indica nella von Deich la colpevole della segnalazione, tra le altre, della famiglia Frank. Secondo quanto affermato nel libro, Gerhard Kramer, scomparso nel 1978, era il custode di un edificio nel centro di Amsterdam, utilizzato dalle autorità tedesche e dal Movimento Nazional Socialista dei Paesi Bassi. Il libro spiega che l'uomo, quindi il padre dell'autore, vide spesso entrare la von Deich nell'edificio con una sorta di travestimento. L'aveva osservata più volte usare il telefono negli uffici occupati dai tedeschi, e in un'occasione, a pochi giorni nell'arresto della famiglia Frank, la sentì parlare del Prinzenkracht con il personale della polizia segreta dell'ESS. Il Prinzenkracht è un canale adiacente a una strada di Amsterdam che porta lo stesso nome, dove Anna Frank e i suoi sette compagni rimasero nascosti per più di due anni, fino a quando furono infine scoperti. Fu quindi Anna von Deich a rivelare la posizione della famiglia Frank? Ormai è difficile scoprirlo e probabilmente non sarà più possibile, visto i circa 80 anni trascorsi. Però questa è una possibilità più che concreta. Mi sento però di fare una precisazione. Nonostante le circostanze possano suggerire che Anna von Deich abbia segnalato la posizione della famiglia Frank alla polizia tedesca, la semplice menzione del Prinzenkracht non può essere assurda a prova certa della colpevolezza della donna. Dopo la guerra Anna von Deich si trasferì a Laia, dove fu arrestata a casa di un amico il 20 giugno del 1945 e imputata per 23 capi d'accusa connessi alla colpa di tradimento. Il 24 febbraio del 1947 fu condotta nel tribunale speciale di Amsterdam. L'accusata ammise tutto quanto le era contestato, asserendo di aver agito soltanto per difendere la propria vita. Nonostante la confessione e la più che circostanziata prova che Anna fosse davvero in pericolo di vita, vista la sua omosessualità e l'appartenenza alla religione ebraica, il tribunale procedette a combinarle la massima pena. La donna venne condannata a morte e nel settembre del 1947 la Corte d'Appello confermò la sentenza. Il 14 gennaio del 1948 fu giustiziata a Fort Belmer. La notte prima della sua esecuzione fu battezzata e si unì alla Chiesa Cattolica Romana. Giunti alla fine del racconto vi pongo la domanda che mi sono fatto quando ho riletto e ricorretto questo breve articolo che avevo scritto qualche tempo fa. È facile indignarsi e condannare, ma io cosa avrei fatto al suo posto di fronte alle urla di un ufficiale delle SS, in tedesco non proprio la lingua più dolce del mondo, che mi comunicava che mi avrebbero ucciso se non avessi collaborato? A mente fredda, lontano dai dolori della guerra, è semplice rispondere. Ma sono sicuro che in quegli anni avremmo interpretato le sue azioni in modo diverso.